E' partita la rivoluzione del presidente Crocetta all'insegna della massima legalità contro il sistema corrotto della formazione degli appalti in Sicilia. Il governatore prevede per i settori l'attivazione di una task force per controllare il sistema degli affidamenti e delle assunzioni in società ed enti che hanno rapporti con la regione siciliana. C'è un sistema che vive nella frode, la truffa e nell'appropriazione indebita di denaro pubblico con un intreccio politico e affaristico che si chiama mafia, afferma Crocetta. I dirigenti regionali per il presidente andranno avanti solo se lavorano. Mette in luce una vicenda quella del CAS e il Consorzio per le Autostrade Siciliane sostiene da 40 anni e affida la progettazione ad una società che si chiama Tecnital. Ma nel frattempo sembrerebbe che un ingegnere, lo stesso che gestisce all'interporto di Palermo, che prende parcelli di 20 milioni di euro, perché la progettazione la fa lui ed ha pure la direzione dei lavori. Questo aggiunge Crocetta è un modo per evadere la legge sui appalti perché su determinati importi c'è l'obbligo della gara. Una bella chiacchierata con la procura non sarebbe una cattiva idea. Per quanto riguarda il settore della formazione ribadisce che c'è un giro criminale che va affermato. Crocetta è per una profonda riforma del settore in collaborazione con università, centri di ricerca, sindacati, scuola, salesiani, con le aziende, per evitare la nascita continua di nuovi enti. Nel settore della formazione il presidente Stato Chiaro spazzerà via dalla regione il sistema Parentopoli con una legge sulla incompatibilità per i deputati regionali. Intanto il dirigente del settore Anna Rosa Corsello ha avviato un'indagine e ha chiesto ai funzionari dell'assessorato di dichiarare se hanno parenti o affini fino al terzo grado.